Per le aziende che hanno voglia di innovarsi per rendersi più competitive in campo nazionale ed internazionale c'è la possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 50%. Il credito d'imposta è quello transazione 4.0, cioè i macchinari e gli impianti devono essere evoluti, la certificazione la deve rilasciare la fabbrica del macchinario o dell'impianto stesso. Per le imprese del Sud, oltre al credito d'imposta nazionale, c'è la possibilità di ottenere, quindi è cumulabile un ulteriore credito d'imposta del 45%, quindi il 95% del macchinario verrebbe a costo zero. Ovviamente resta fermo il vantaggio fiscale dell'ammortamento in 5 anni dello stesso bene. Grazie. 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 Grazie.